C'è tanta voglia, queste sono le partite che aspettiamo tutto l'anno, lavoriamo tutto l'anno per arrivare ai play-off ed è questo il momento della stagione più bella, iniziamo domani col Terrimar che è un'ottima squadra, ve l'ha fatto vedere durante tutto l'anno, noi dobbiamo partire subito forte sul 1-0 e cercare di chiudere la serie sul 2-0 sabato in casa loro. Noi abbiamo studiato l'avversario con analisi tecnica video, però sappiamo benissimo che dipende soprattutto da noi, noi abbiamo il nostro gioco semplice e lo dobbiamo continuare a dimostrare come abbiamo fatto la scorsa stagione, dobbiamo continuare forte e dimostrare che siamo più forti. Questa è la nostra vicina, lo dobbiamo far vedere, lo deve far vedere il pubblico, lo deve far vedere tutta Recco, che l'avversario non si deve trovare a suo agio quando arriva qua, deve trovare un clima comunque molto acceso e dipende molto soprattutto da noi in basca e quindi chiunque arriverà qua come nostro avversario sarà dura.